Il concorso per dirigenti scolastici sta entrando nella sua fase conclusiva. Stanno prendendo infatti avvio le prove orali per i 3.800 candidati che hanno superato lo scritto e che dovranno contendersi i 2.910 posti messi a concorso. Non mancano le polemiche, soprattutto per le modalità con cui i concorrenti sono stati abbinati alle commissioni. Per evitare fenomeni di corruzione o più semplicemente per limitare al massimo la possibilità che i candidati siano conosciuti a uno o più componenti della commissione, i concorrenti svolgeranno la prova in una sede individuata in modo casuale e così potrà accadere che per sostenere l'esame un docente di Milano debba recarsi a Bari o che viceversa un candidato di Cosenza debba finire nel Veneto. Intanto procede l'iter dei ricorsi presentati da centinaia e centinaia di candidati che non hanno superato lo scritto. I motivi sono i più disparati. Si va dal diverso comportamento mantenuto dalle commissioni rispetto alla possibilità di consultare le raccolte di testi normativi fino al malfunzionamento del software a disposizione per la stesura delle risposte ai quesiti. Per non parlare poi del fatto che la prova scritta si è svolta in Sardegna in una data diversa contrariamente a quanto previsto dal bando di concorso. La prova orale sarà valutata con un punteggio calcolato in centesimi. Per superarla bisognerà ottenere almeno 70 punti così come avvenuto per lo scritto. Intanto i concorrenti hanno già dichiarato i propri titoli per i quali è previsto un massimo di 30 punti. Al termine verrà redatta la graduatoria di merito e ciascun concorrente si vedrà assegnata la sede di servizio. Tutti i concorrenti dovranno indicare il ruolo regionale nel quale vorranno essere inseriti ma poiché ci sono regioni con pochi posti disponibili è probabile che non pochi candidati dovranno allontanarsi dalla propria residenza per ottenere l'incarico. È invece possibile e auspicabile che scompaia nelle regioni del nord il fenomeno delle reggenze che da anni sta affliggendo gran parte delle scuole del Piemonte, della Lombardia e del Veneto soprattutto. Bene noi chiaramente continueremo a seguire questo tema soprattutto nelle prossime settimane quando si entrerà nel vivo dello svolgimento della prova orale. Continuate quindi a seguirci su questo canale e continuate a seguirci anche nel nostro sito www.tecnicadellascuola.it ovviamente se volete potete scriverci, mandarci le vostre esperienze e le vostre osservazioni.